La vita è sempre una questione di centimetri, anche lo sport è una questione di centimetri, centimetri che sono mancati per il sogno della Serie A che si è infranto contro una traversa all'ultimo minuto dell'ultima partita. Però questo significa anche ripartire, ripartire e riprovarci. Oggi abbiamo aperto la sala del Consiglio Comunale, che è la Casa dei Pescaresi, per salutare la squadra, lo staff tecnico, i giocatori, il mister e augurare loro ogni successo per questa stagione che parte, attorno alla quale ovviamente ci sono delle aspettative, con l'idea di far sognare una comunità esattamente come è avvenuto lo scorso anno. State lavorando con la società Pescara Calcio per lo stadio Adriatico per la gestione da parte del sudalizio biancazzurro dello stadio? Ma questa è una frontiera verso cui questa amministrazione, sin dal suo insedimento, intende tendersi. Oggi le pubbliche amministrazioni hanno difficoltà finanziarie e dunque devono pensare a nuove forme di gestione delle proprietà immobiliari. Lo stadio è una di queste, ciò si lega anche al fatto che entro due anni gli stadi di calcio dovranno avere determinate caratteristiche, dovranno essere dedicate. Noi pensiamo e lavoriamo ad un'ipotesi del genere con la premessa indispensabile tuttavia di mantenere inalterato quell'altra funzione che lo stadio svolge, quello cioè di un luogo in cui centinaia e migliaia di persone vengono a trascorrere il proprio tempo libero, si allenano e fanno atletica. Dunque l'idea è da un lato la realizzazione di un nuovo impianto per l'atletica e dall'altro la trasformazione dell'esistente stato adriatico in una struttura esclusivamente dedicata al calcio che sia in grado di funzionare sette giorni su sette, 365 giorni all'anno per intenderci sul modello dello Juventus Stadium. Grazie.